Ciao a tutti cari amici e bentornati sul mio canale didattico Diego ti spiego nella sezione della matematica. In questo video cominceremo a studiare la retta nel piano cartesiano e veramente la sviscereremo fino in fondo ed in particolare vedremo che cos'è il coefficiente angolare. Per affrontare la lezione al momento ti basterà sapere come si disegna una retta nel piano e avere le nozioni base di piano cartesiano, almeno saper mettere dei punti sul piano. Se non ti sei ancora iscritto al canale fallo subito oppure seguimi su instagram. Vediamo che capisce qualcosa va? Cominciamo con questa fantastica lezione che vede come protagonista la retta e il coefficiente angolare. Come prima cosa quindi come al solito cerchiamo di capire che cosa stiamo tentando di descrivere. Tutti voi nel piano cartesiano sapete disegnare una retta, l'avete vista sicuramente alle medie quando avete studiato per la prima volta il piano cartesiano e l'avete vista anche l'anno scorso quando avete studiato la proporzionalità di retta. Associata a questo disegno avete sicuramente visto un'espressione di questo tipo. E perché un'espressione di questo tipo può essere rappresentata con una retta? Possiamo dirlo con tranquillità perché la retta non è nient'altro che una relazione o meglio una funzione che associa ad un valore di x, uno ed un solo valore della y. Che cosa vuol dire questa cosa? Che scelto un certo valore della x, per esempio 3, io sarò in grado di trovare uno ed un solo valore della y e questo vale per tutte le x che posso andare a scegliere. E come farò a trovare questo valore? Ebbè mi basterà mettere questa x all'interno della mia funzione e scoprire qual è il valore di y. Possiamo quindi parlare di funzione lineare. Che cosa implica questo avere a che fare con una funzione lineare? Che all'aumentare della variabile x aumenti anche la variabile y e viceversa diminuirà se diminuisce la x. Qual è l'obiettivo della nostra lezione quindi? Tentare di sviscerare la retta a partire dall'equazione che ne descrive il comportamento. Cominciamo quindi con la teoria. Cominciamo col dare l'equazione generale della retta sul piano cartesiano. Come potete vedere questa equazione è del tipo ax più by più c. Chiameremo la retta scritta in questo modo equazione implicita. Che vuol dire implicita? Vuol dire che tutti i termini sono posti alla sinistra dell'uguale. E questo quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che saremo in grado di scrivere anche un'equazione in forma esplicita. E come sarà l'equazione generale in forma esplicita? Sarà un'equazione del tipo y uguale mx più q. Adesso vedremo bene che cos'è. m che cos'è q. La prima cosa che andremo a vedere però è come abbiamo ricavato l'equazione in forma esplicita a partire da quella implicita. È stato in realtà molto semplice ragazzi perché mi basta prendere l'equazione in forma implicita e andare a isolare la y. Quindi che passaggi devo fare? Prima lascio by da questa parte e porto tutte le altre cose dall'altra. Quindi meno ax meno c. Dopodiché divido tutto quanto per b. Quindi otterrò che y è uguale a meno a fratto b x meno c fratto b. Ora vedete mi basterà chiamare m la quantità meno a fratto b ovvero questa quantità qui e q la quantità meno c fratto b ovvero questa quantità qui. In questo modo ottengo l'equazione in forma esplicita. Riprendiamo quindi questa equazione in forma esplicita e andiamo a vedere nel dettaglio che cos'è m e che cos'è q. Chiameremo m coefficiente angolare mentre chiameremo q intercetta. Il coefficiente angolare non è nient'altro che l'inclinazione della retta rispetto all'asse x mentre l'intercetta q non è nient'altro che il punto in cui la retta intersega l'asse delle y. Se quindi andiamo a fare un disegno sul piano cartesiano di una retta generica y uguale mx più q scopriamo che cosa? Che q non è nient'altro che il punto in cui la retta incontra l'asse delle y, supponiamo per esempio in questo caso 2, mentre m che cos'è? E' attenzione ragazzi, m non è l'angolo che la retta forma con l'asse delle x, ma è qualcosa che è legato all'angolo. Detto questo facciamo quindi due osservazioni. La prima è quella che vi ho appena detto, cioè il coefficiente angolare m non è assolutamente l'angolo formato dalla retta con l'asse x, ma è qualcosa che ha a che fare con l'inclinazione senza però essere direttamente l'angolo. La seconda osservazione che vi prego di tenere sempre sempre a mente è la seguente. Il coefficiente angolare m di una retta è il coefficiente della x, cioè è il numero davanti a x, solo se la retta è in forma esplicita. Per capire questa cosa facciamo subito un esempio. Se scrivo queste due rette, come potete notare, una è scritta in forma esplicita, che è la prima, e l'altra è scritta in forma implicita, che è la seconda. Per quanto riguarda la prima, il coefficiente angolare è sicuramente il numero che sta davanti alla x, quindi posso dire che m vale sicuramente 3, perché la retta è scritta in forma esplicita e quindi il numero davanti alla x è proprio quello che mi serve. Per quanto riguarda la seconda retta, e ragazzi non mi dite che il coefficiente angolare è 3, perché non è assolutamente così, perché è vero che il numero davanti a x è 3, ma è anche vero che la y possiede un numero lì davanti. Quindi devo dire che il coefficiente angolare è meno a fratto b, cioè il numero davanti alla x è cambiato di segno fratto il numero davanti alla y. Quindi m non è nient'altro che meno 3 fratto 2, cioè meno tre mezzi. Se quindi non dividete il numero davanti a x per il numero davanti a y, non vi verrà mai niente, ragazzi. Detto questo, cari amici, andiamo a vedere l'equazione di particolari rette nel piano cartesiano e andiamo a vedere anche come si ricava il coefficiente angolare per queste rette. Cominciamo subito con la retta per l'origine. Che cosa abbiamo detto fino adesso, ragazzi? Che l'equazione generale della retta è y uguale mx più q, dove q non è nient'altro che l'intercetta, cioè il punto in cui la retta passa per l'asse delle y. Cosa succede se la retta passa per l'origine? E beh, direi assolutamente niente, devo scrivere una retta in cui il punto di intersezione con l'asse delle y non è nient'altro che l'origine, quindi q vale 0. Quindi tutte le rette che passano per l'origine hanno equazione y uguale mx. Cosa succede quindi per equazioni di questo tipo? Posso andare a trovare subito, ma veramente subito, il valore del coefficiente angolare, che sarà per l'appunto y fratto x. Mi basterà fare quindi la formula inversa e troverò il valore di m. Cosa vuol dire questo? Che mi basta sapere qual è un punto per cui quella retta passa. Supponiamo per esempio che questa retta passi per il punto 3 per quanto riguarda le x e 9 per quanto riguarda le y. Come posso fare a trovare il valore di m? Molto semplicemente facendo 9 fratto 3, cioè 3. È molto facile quindi andare a trovare il valore di m quando la retta passa per l'origine. È un po' meno facile se la retta non passa per l'origine. Per quanto riguarda la retta passante per l'origine, ci sono due rette particolari di cui dobbiamo conoscere l'equazione. La prima di questi è la bisettrice del primo e terzo quadrante, che come dice il nome, divide a metà il primo e il terzo quadrante. E quale sarà la sua equazione? Sarà ovviamente y uguale x. Come faccio a essere sicuro che è proprio questa e che quindi il coefficiente angolare vale 1, perché è il numero davanti a x? E beh, la particolarità della bisettrice del primo e terzo quadrante è che le x e le y sono identiche, cioè quella passerà per il punto 3, 3, 4, 4, 5, 5 e così via. Quindi se vado a calcolare il coefficiente angolare facendo y fratto x, otterrò sempre 1. La stessa cosa varrà per la bisettrice del secondo e del quarto quadrante, che come suggerisce il nome ovviamente dividerà il secondo e il quarto quadrante. La sua equazione sarà quindi y uguale meno x. E questo perché? Perché ogni valore di x sarà uguale a meno il valore di y e viceversa. Il suo coefficiente angolare pertanto sarà uguale a meno 1, perché è il numero davanti a x. Altre equazioni che dobbiamo assolutamente conoscere sono le equazioni delle rette verticali e delle rette orizzontali. Cominciamo dalla retta verticale, che è quella gialla che ho disegnato. Quella retta passa per il punto x uguale meno 5. Le equazioni delle rette verticali in genere sono x uguale k, dove k che cos'è? È il valore della x per cui passano. Nel mio caso quindi l'equazione di questa retta sarà x uguale meno 5. E quale sarà il coefficiente angolare di una retta di questo tipo? Ragazzi, non mi dite che vale 1. Il valore del coefficiente angolare di una retta verticale è un valore infinito che non esiste. L'equazione di una retta orizzontale la possiamo trovare ovviamente per deduzione. Quindi se l'equazione della retta verticale in generale è x uguale k, l'equazione della retta orizzontale sarà y uguale k. In particolare, in questo caso, sarà y uguale 3, perché passa per il punto di ordinata 3. E quale sarà il coefficiente angolare di una retta di questo tipo? Sarà ovviamente 0. Quindi in questo caso il coefficiente angolare esiste, ma vale 0, perché non essendoci la x, il numero davanti alla x sarà proprio 0. Anche per quanto riguarda le rette verticali delle rette orizzontali possiamo individuare due rette particolari, che sono le equazioni e gli assi cartesiani. Per quanto riguarda l'asse y, infatti, lei non è nient'altro che una retta verticale che passa per il punto 0, quindi avrà equazione x uguale 0. Per quanto riguarda l'asse x, lei non sarà nient'altro che una retta orizzontale che passa per il punto 0. Quindi avrà equazione y uguale 0. Mi raccomando, ragazzi, non vi confondete. Fate sempre il contrario, cioè l'asse y è x uguale 0 e non y uguale 0, mentre l'asse x è y uguale 0. Un modo mnemorico di ricordarlo è per l'appunto considerare il contrario di quello che state calcolando. Adesso, ragazzi, per concludere facciamo alcune osservazioni sul coefficiente angolare. Per far questo, riprendiamo le rette che abbiamo disegnato prima, però le inseriamo una alla volta. Partiamo dalla prima retta che abbiamo scritto. Come potete vedere, è una retta orizzontale che passa per il punto 3 e il cui coefficiente angolare vale 0, perché non ha nessuna inclinazione rispetto all'asse x. Inseriamo adesso la seconda retta, che è la bisettrice, del primo e terzo quadrante. Cosa notiamo di questa retta? Notiamo che il coefficiente angolare è passato da 0 ad 1, quindi sostanzialmente è aumentato. È come se la retta, ruotando su un punto, quindi facendo questo movimento qua, abbia aumentato il proprio coefficiente angolare. Se inseriamo la terza retta, quindi quella verde, notiamo che questa cosa è sempre più vera, perché vedete che il coefficiente angolare è passato da 1 a 3, quindi più la retta è inclinata rispetto all'asse x, più il coefficiente angolare sembra aumentare. Finché non succede che cosa? Succede che la retta diventa verticale, il suo coefficiente angolare va all'infinito e quindi possiamo dire che non esiste. Quindi immaginate che durante questa rotazione il coefficiente angolare salga talmente tanto da diventare un valore infinito. Dopodiché, ragazzi, che cosa succede? Che continuo ad effettuare questa rotazione e vedete che, per esempio, io scrivo la bisettrice del secondo e quarto quadrante, ma un'altra retta inclinata sempre in quel modo mi va bene lo stesso, perché che caratteristica ha una retta di questo tipo? Ha un coefficiente angolare negativo. Quindi che cosa otterremo se continueremo a girare sostanzialmente con questa retta? Beh, lei continuerà ad avere valori negativi sempre più grandi, o meglio più piccoli verso il negativo, fino a tornare di nuovo alla retta orizzontale in cui il coefficiente angolare farà zero. Da questo, quindi, ragazzi, dobbiamo cogliere assolutamente delle osservazioni che non ci possiamo più dimenticare. La prima osservazione da fare è assolutamente sul valore positivo o negativo del coefficiente angolare, quindi rette che hanno inclinazione di questo tipo hanno coefficiente angolare maggiore di zero, cioè positivo, mentre invece rette che hanno inclinazione di questo tipo hanno coefficienti angolari negativi. Le rette orizzontali, ovviamente, hanno coefficiente angolare zero. La seconda osservazione che possiamo fare è legata all'angolo formato dalla retta con l'asse delle x e possiamo utilizzare sempre questo disegno, quindi rette che hanno coefficienti angolari positivi formano angoli alfa con l'asse delle x acuti, mentre rette che hanno coefficienti angolari negativi formano con l'asse delle x angoli alfa ottusi. Quindi tutte le volte che negli esercizi troverete angolo acuto o angolo ottuso vi sta dicendo sostanzialmente che il coefficiente angolare è positivo se l'angolo è acuto e negativo se l'angolo è ottuso. La terza osservazione è ovviamente banale perché l'abbiamo vista ed è la seguente. M è ovviamente tanto più grande quanto più la retta è inclinata, cioè tanto più maggiore all'inclinazione. Quindi più la retta si avvicina sostanzialmente dall'asse delle y, tanto più m sarà grande. L'ultimissima osservazione che vi vorrei fare sul valore del coefficiente angolare. Abbiamo detto nella precedente schermata che il valore del coefficiente angolare è pari a y fratto x. E questo però ragazzi soltanto se la retta passa per l'origine, cioè solo se abbiamo una retta del tipo y uguale mx. Come posso fare invece a trovare il valore del coefficiente angolare se ho una retta più generica, quindi del tipo mx più q? E beh ragazzi sicuramente il coefficiente angolare non sarà y fratto x perché c'è quel termine q che mi dà molto fastidio. Diciamo che l'unico modo che avete per trovare il coefficiente angolare se non avete l'equazione della retta a disposizione è avere un disegno che però vi deve dare due punti per cui quella retta passa. Quindi sostanzialmente l'unico modo che avete per trovare il coefficiente angolare di una retta generica è conoscere almeno due punti per cui passa quella retta. In questo caso il coefficiente angolare si trova facendo y di b meno y di a fratto x di b meno x di a. E questa qui è una formula che utilizzeremo molto spesso. Non vi preoccupate se ve l'ho lanciata lì così perché comunque la rivedremo nelle lezioni successive. Con questa lezione abbiamo concluso è una lezione soltanto teorica che però ragazzi dovete studiare benissimo perché altrimenti non riusciamo a fare gli esercizi dopo e soprattutto è la base della teoria sulle rette. Nel prossimo video cominceremo a fare esercizi su tutte le nozioni che vi ho appena dato. Grazie per avermi seguito anche oggi e alla prossima. Grazie alla prossima lezione da Diego ti spiego.